Siamo a lancio della Creme Rich Premier Crew di Codalì e sono in compagnia di Dorotea De Propis dell'azienda Codalì. Dorotea, ci vuole illustrare le caratteristiche di questa nuova referenza? Certo. Allora, quella che stiamo presentando oggi, la Premier Crew Rich, è la nuova referenza della gamma Premier Crew. Come tutta la gamma, rappresenta un anti-age globale, ossia una crema che va a lavorare su tutti i segni dell'invecchiamento. Quindi va bene per quale tipo di età? Allora, diciamo che essendo un anti-age globale può essere utilizzata da quelle signore in età un pochino più matura che hanno voglia magari di andare a rassodare o avere un'azione antirughe più importante, ma anche ciclicamente da ragazze più giovani che vogliono prevenire. Quali sono gli attivi principali di questa crema? Allora, la Premier Crew contiene i nostri tre brevetti, quindi la viniferina, che ha un'azione antimacchia illuminante, il resveratrolo, con un'azione anti-age, e i polifenoli con l'azione antiossidante. La nuova Premier Crew Rich, rispetto alla crema già presente nella gamma, contiene poi tre cere vegetali, di jojoba, girasole e mimosa, che quindi la rendono più burrosa, più nutriente per la pelle. Quindi è una crema più da giorno o da notte? Allora, questa è una crema 24 ore, si può usare assolutamente mattina e sera. Nel periodo magari della stagione più calda è perfetta come crema da notte. Andiamo a vedere che infatti ha questa textura più ricca, ed infatti sulla mano risulta molto più nutriente rispetto all'altra, ripeto, sempre grazie a queste tre cere vegetali, però comunque si assorbe molto bene. Da oggi la gamma Premier Crew si arricchisce quindi di questa nuova referenza, la Premier Crew Rich, la creme della creme, una crema appunto che ha un anti-age globale, con un'azione depigmentante grazie alla viniferina, anti-rughe grazie al resveratrolo e antiossidante grazie ai polifenoli. In più queste tre cere vegetali la rendono una textura più burrosa e quindi più nutriente. Grazie. Grazie.